E vediamo quali sono gli altri paesi europei chiamati al voto, molti di questi con più appuntamenti elettorali. E' uno l'Estonia che ha già votato anche online. Sentiamo da Bruxelles il corrispondente Alberto Romagnoli. In queste ore si sta eleggendo un Parlamento che sarà sicuramente più frammentato di tutti quelli che l'hanno preceduto. In seguito alla presenza un po' avunque di nuovi partiti che non si riconoscono più nei tradizionali schieramenti. Divisioni che teme qualcuno potrebbero finire per paralizzarlo oppure obbligarlo, sperano altri, a un confronto più concreto sulle cose da fare, a diventare insomma un Parlamento davvero più politico e meno burocratico. Fatto sta che c'è anche molta politica nazionale nelle urne e in Francia lo hanno capito bene. A mezzogiorno l'affluenza sfiora già il 20%. La sfida fra Macron e Le Pen ha assunto infatti le caratteristiche di una sorta di rivincita delle presidenziali del 2017. In Grecia le europee fanno da prologo alle politiche. Sipras cerca di invertire il trend dei sondaggi, per ora sfavorevoli alla sua permanenza al governo. Dove invece, ben saldo in Ungheria, Viktor Orban, il paese a contamento dell'1% del pile europeo, eppure la sua voce si farà sentire nel dibattito già previsto martedì sera al Consiglio europeo, sulle nomine ai vertici di Commissione, Parlamento e Banca Centrale Europea. Quasi ovunque si continua a votare con carta e penne, il voto elettronico convince solo gli estoni. Tutti gli altri hanno ancora dubbi sulla sua sicurezza. E per le ultime novità ci colleghiamo allora con la nostra inviata a Bruxelles, Valentina Antonello. Sì, buongiorno dall'emiciclo che come vedete si sta lentamente riempiendo di colleghi. Il primo dato indicativo ma non definitivo è atteso per le 18 con gli exit poll su 7 paesi, tre particolarmente grandi sono la Germania, l'Austria e la Grecia, ma insomma sarà dalle 23.15 con la prima proiezione su dati reali che si avrà un po' il polso della situazione e sarà su tra l'altro i dati definitivi di 9 paesi e di questi in particolare la Spagna e la Grecia. E poi via via nel corso della notte. Alle 8.30 circa, alle 20.30 di questa sera ci saranno conferenze stampa dei singoli partiti con i portavoce, ma è dalle 23.30, quando i seggi dunque saranno chiusi anche in Italia, che entreranno in campo i cosiddetti spizzen candidaten, i candidati delle singole famiglie europee. I riflettori, lo sentivate anche dal pezzo precedente, sono naturalmente puntati sulla partecipazione che potrebbe fare anche la differenza in salita in Francia, così come in Spagna che alle 12 ha fatto registrare un più 10% e in Slovenia un più 7%, in caduta invece in Croazia che chiuderà le urne alle 19.00. Una curiosità, mentre vi parliamo a Fiumicino stanno arrivando le schede con il voto degli italiani all'estero. Per il momento da qui è tutto, vi ricordiamo naturalmente gli aggiornamenti nel corso dello speciale in onda a partire dalle 22.50, questa sera invece telegiornale dallo studio Agora dell'Europarlamento. A più tardi.